Senatore, possiamo parlare di calcio? La Corte Europea ha dato ragione alla Superlega, UEFA e FIFA... No, 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 io non faccio commenti perché non ho ancora letto. Ha detto un'altra cosa, l'abuso di posizioni dominante. La Superlega può essere una conseguenza o non essere. Adesso ci sarà da ragionare, bisognerà leggerla bene e capire. Quindi non sono illegittime, diciamo, le compi... No, 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 c'è cosa, ma le conseguenze sono. Però stavo in Senato, quindi non ho letto niente, se non qualcosa, quindi io sono abituato a parlare delle cose che conosco. Quindi leggere, capire che cosa dice esattamente la sentenza e poi... Parlando ipoteticamente, se il Monza venisse invitato a una Superlega, lei cosa farebbe? Non lo so, credo che il Monza non verrà invitato a nessuna Superlega. Noi facciamo parte di questo sistema qui e naturalmente nessuno pensa di uscirne. Però adesso non bisogna, credetemi, trarre conclusioni affrettate. Bisogna vedere, bisogna legge, bisogna capire, bisogna ragionare e... A caldo però c'è stata una reazione che ha pensato, qualcosa che ha pensato, a caldo c'è stato. Siamo a Natale, a caldo non penso. Saluti! Grazie a tutti! Cominio! apro Have classes. Grazie a tutti